Buongiorno a tutti amici, bentornati alla nostra consueta rubrica settimanale della libreria esoterica Il Sigillo. Io sono tornato qui dopo le ferie e fortunatamente con una mente abbastanza fresca da potervi illuminare su alcuni concetti che in questo caso riguardano me, il mio lavoro di scrittore, quindi per una volta chiedo Venia e mi impadronisco di questa rubrica e di questo podcast che poi viene trasmesso anche su Spotify e su vari altri canali per darvi alcune indicazioni su due opere che possono, che sono materialmente separate ma che concettualmente possono essere l'una il prosieguo dell'altra. Mi riferisco al mio saggio Il Verde Cammino in cui ho studiato, paragonato, le corrispondenze, i parallelismi tra una figura della notta opera di Tolkien, il Signore degli Anelli, cioè Tom Bombadil, questo personaggio assai misterioso che rimane ancora un enigma letterario, e la figura coranica di Al-Kidre. Quindi il profeta verde è il soggetto di questo studio. Un soggetto che, alla fine della mia ipotesi, alla fine della mia tesi, sostengo essere un topos letterario che può essere rinvenuto nella struttura stessa della parola e del suo utilizzo, da parte di tutte le culture, di tutte le tradizioni, non soltanto spirituali del mondo. Cioè, i parlanti di ogni epoca e di ogni localizzazione geografica inevitabilmente hanno avuto a che fare con questa entità, il profeta verde, l'agente del verde, l'agente di pan, del panico, l'essenza della natura nella sua forma ontologica più pura. Dunque, questo libro, appunto, è un saggio specifico, ma la loggia verde, che voi forse conoscerete perché è stata citata in altri precedenti video, nonostante sia la parte finale di una trilogia, può essere vista come il prosieguo logico del verde cammino. E vi spiego perché. Mentre nel verde cammino viene studiata la figura dell'agente verde, del profeta verde, Al-Kidr, Tom Bomba, nelle sue e moltissime altre denominazioni che l'uomo ha dato a questa entità, nella loggia verde si compie il passo successivo, e cioè la trasformazione dell'uomo nel profeta verde, trasformazione che è psichica, spirituale, ma anche fisica, e che di conseguenza presuppone una mutazione strutturale, cellulare, biologica, nel senso più ampio, dell'uomo sapiens, affinché possa superare lo stallo evolutivo in cui attualmente si trova, e vi assicuro che l'uomo sapiens è di fatto uno stallo, uno stallo che è stato scambiato con il punto più alto dell'evoluzione del genere uomo, quando in realtà di fatto dovrebbe essere percepito più come una stazione spaziale, una stazione che serve al lancio verso una forma transumana, o addirittura non umana, quella che viene chiamata la mostruosizzazione della prospettiva umana, quindi il mutamento verso una forma non formale e non nominale dell'uomo sapiens. Una progressione che in realtà è anche una reintegrazione, come nella loggia verde viene ampiamente spiegato. Quindi, in sostanza ho fatto questo breve video, mi sono impadronito del podcast del sigillo per fare qualcosa di personale, nonostante la loggia verde non sia opera esclusivamente mia, ma contenga i contributi di molti altri agenti che lavorano al fine di aiutare e di far sì che questo stallo, lo stallo dell'uomo sapiens, venga definitivamente e irreversibilmente superato. nonostante questo rimane, come dicevo poco fa, la fine di una trilogia, ma può essere letto singolarmente e potrebbe essere letto successivamente a quest'opera. quindi il verde cammino è, diciamo, l'origine, la sorgente di quello che poi sfocerà nella loggia verde in questa struttura non strutturale, in questo sistema non sistematico, che può effettivamente attuare dei cambiamenti sociali irreversibili e aiutare la specie umana a superare l'abisso, l'abisso in cui si trova, che è un abisso generato dalla mente, è un abisso generato dal pensiero, è un abisso generato dalla strenua adorazione fantasmatica delle idee che noi continuamente applichiamo alla realtà e scambiamo per la realtà. è soltanto quando arriviamo alla percezione del vuoto, del vuoto asemantico, che è il cuore stesso pulsante della natura, natura che è essa stessa è un'idea, è una parola. solo in quel momento allora può avvenire una diretta percezione che sia scevra da tutte le barriere simboliche, ideologiche, giudicanti e via discorrendo con la manifestazione, con la realtà di questo mondo. Ecco, io per oggi ho concluso e ciò che volevo dirvi era soltanto mettervi al corrente della possibilità di leggere queste due opere una di seguita all'altra senza necessariamente affrontare l'intera trilogia Novas, che può essere magari ostica e pesante per chi non abbia familiarità con l'avanguardia occultistica e con l'anarchismo spirituale. La loggia verde invece è un libro molto più agevole, ma non per questo semplice da applicare, che però potrebbe essere, anzi sicuramente è, la diretta conseguenza e il logico prosieguo del verde cammino. Bene amici miei, per questa settimana è tutto, io vi lascio e vi ricordo l'ultima cosa e vi ricordo che sabato 27 ci sarà l'interessantissimo incontro con Sandro Pravisani sui graffiti antichi di Padova, a cui vi consiglio di non mancare e come sempre vi auguro una splendida settimana. A presto!